Il fascino del progresso. Karl Stoz Endoscope. Lavorando con passione alla ricerca delle soluzioni migliori, Karl Stoz sviluppa da tre generazioni prodotti e procedure endoscopiche affascinanti. Da sempre l'endoscopia fa parte della nostra famiglia. Di conseguenza entrare in azienda è stata una scelta naturale per me. L'endoscopia in sé come tecnologia medicale mi affascina. Cerchiamo di essere sempre il più possibili vicini al cliente, poiché è questa la base del nostro successo, aiutare i medici a risolvere i loro problemi. Karl Stoz è un'azienda privata con oltre 6.000 collaboratori. Tutti i suoi prodotti per l'endoscopia sono sviluppati, realizzati e commercializzati a livello mondiale dagli aziende del gruppo. Nel settore medicina umana, Karl Stoz offre endoscopi, dispositivi e strumenti, allestimenti per sale operatorie e soluzioni complete per ospedali e ambulatori. Anche nella medicina veterinaria e nell'industria è leader nell'offerta di servizi innovativi e all'avanguardia. Da componenti quali ottica, meccanica, elettronica e software, nasce una gamma di prodotti completa. È importante assicurare una catena di processo unita e ben funzionante, il che presuppone una stretta collaborazione e una comunicazione efficiente. Sviluppiamo i nostri prodotti collaborando intensamente con alcuni dei più autorevoli medici e istituti universitari di ricerca. Oggi Karl Stoz offre una gamma completa di prodotti in tutte le discipline, dalla testa ai piedi. Grazie al consenso ottenuto sul mercato, conosciamo con molto anticipo le tendenze, gli sviluppi e le nuove tecniche chirurgiche. Ed è per noi un onore e un piacere poter essere coinvolti anche nello sviluppo degli strumenti necessari. Siamo responsabili delle soluzioni tecniche. Prodotti e soluzioni di sistema affascinanti. Dal più piccolo endoscopio, fino alle modernissime sale operatorie integrate con visualizzazione e streaming HD. Karl Stoz Endoscope è fornitore leader di soluzioni all'avanguardia. Karl Stoz realizza i suoi prodotti e sistemi di qualità nei propri stabilimenti in Germania, presso la sede centrale di Tuttlingen e altre sedi del paese, ma anche in Svizzera, nel Regno Unito, in Estonia e in altri stabilimenti negli Stati Uniti. La produzione deve collegare sapientemente la gestione dei processi e la tecnologia di automazione a una tradizionale abilità artigiana. Per creare prodotti sempre più affascinanti. Solo la massima qualità conta. Per i nostri prodotti ottici, per gli strumenti, i dispositivi e la tecnologia di visualizzazione e documentazione. Svolgiamo un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per un'integrazione dei sistemi ottimizzata e uniforme. Nell'ambito del software non sembrano esserci limiti a ciò che è possibile realizzare. Siamo presenti in 39 paesi con oltre 50 sedi, con società di produzione, marketing e vendita. Tutto è collegato dalla nostra logistica intelligente, con un nuovo magazzino di circa 25.000 metri quadri per movimentazione e stoccaggio. Ci dedichiamo intensamente a ogni cliente e a ogni progetto. Dall'idea iniziale fino alla commerciabilità e al servizio. Solo così è possibile ottenere l'elevata qualità che CarStoss persegue costantemente da sempre. Senza tradizione non si può vivere. La tradizione fa parte della nostra vita. Ciò che abbiamo imparato in passato ci guida e ci accompagna sulla strada verso il futuro. L'azienda, fondata da Carl Stoltz a Tuttlingen nel 1945, può vantare una affascinante storia costellata di successi. Presso la sede originaria dell'azienda è stato allestito un museo che illustra in modo eloquente le idee e le visioni del fondatore e pioniere, il dottore in medicina honoris causa, Carl Stoltz. La prima fonte di luce progettata come dispositivo separato dall'endoscopio ha rappresentato una pietra miliare. Attraverso un caro amico, il professor Bersi di Los Angeles, mio padre conobbe il professor Hopkins, che ebbe l'idea di invertire i sistemi ottici, rivoluzionando l'industria ottica e l'imaging endoscopico. Una tecnologia affascinante come l'endoscopia trova applicazione anche nell'industria. Per ispezionare luoghi difficilmente accessibili offriamo sistemi endoscopici studiati, ad esempio, per l'industria aeronautica e automobilistica e per il controllo dei processi e dei materiali. Anche le dogane, la polizia, le autorità statali, ad esempio nella tutela dei monumenti, utilizzano procedure endoscopiche, spesso con misuratori laser ad alta precisione. L'obiettivo è fornire agli utenti i prodotti migliori. Gli animali sono amici dell'uomo e soffrono spesso delle nostre stesse malattie. La medicina veterinaria di Karl Stoltz, con la maggiore tutela possibile di ogni forma di vita, trova impiego nella diagnosi, nel trattamento o nella conservazione delle specie. Nel 1996, Sibyl Stoltz ha assunto la direzione dell'azienda. Sotto la sua guida, l'azienda ha sfruttato sapientemente i propri punti di forza, conoscenza dettagliata delle esigenze mediche e attenta osservazione di specifici sviluppi del mercato. Sibyl Stoltz ha ricevuto premi da istituti, società e organizzazioni nazionali e internazionali in riconoscimento del suo impegno a favore di uno sviluppo affascinante. Sibyl Stoltz ha ricevuto premi da istituti, In tutto il mondo, i collaboratori Karl Stoltz lavorano al servizio del fascino dell'endoscopia, perseguono idee e trasmettono le proprie conoscenze secondo lo spirito di Karl Stoltz. Siamo molto aperti a qualsiasi novità e non mancheremo di sostenere con tutti i nostri mezzi l'impegno dei nostri clienti a favore dello sviluppo della medicina. È bello lavorare quando si è circondati da un'ottima squadra. Karl Christian Stoltz, nipotele fondatore dell'azienda, persegue una stabile continuità della linea aziendale nel futuro. Vogliamo generare costantemente una crescita sana e sostenibile, come presupposto volto a garantire la nostra indipendenza. Karl Stoltz vive attraverso il fascino del progresso e delle persone che ogni giorno danno il meglio di sé per raggiungere nuovi traguardi. Perché il futuro ha una tradizione e la tradizione ha un futuro. Karl Stoltz Endoscopy, il fascino del progresso